A Sapri, mentre sembrano accorciarsi i tempi per la demolizione del cementificio, si allungano quelli per il completamento del cineteatro, mentre continua a rimanere in stand-by la costruzione della piscina. Mercoledì prossimo l'amministrazione locale farà il punto sulle opere pubbliche, cercando di fornire all'Assemblea informazioni dettagliate sui grandi progetti, danni al palo, ma anche su quelli che il Comune si appresta a mandare in appalto. Per l'occasione sarà resa nota la relazione tecnica stilata da un pool di esperti al termine di accurate verifiche sulla steticità dell'ex cinema Ferrari. Un documento che dimostrerebbe chiaramente che i lavori di restauro avviati nel vecchio edificio e sospesi da tempo per una serie di problematiche non potevano essere eseguiti se non prima di interventi di consolidamento dello stabile. Di fatti, dalle prove sismiche è venuto fuori, che è inagibile e quindi prima che i lavori riprendano, devono essere eseguiti interventi di messa in sicurezza. Chiaramente questo farà allungare ulteriormente i tempi per il completamento dell'opera, perché dovranno essere richiesti nuovi fondi e appaltati nuovi lavori. Intanto il Comune attende il via libera della soprintendenza al progetto presentato alcune settimane fa per la demolizione del cementificio. Se sarà accolto senza alcuna riserva, nel giro di poche settimane il Comune avrà in mano l'autorizzazione per l'abbattimento. Da quel momento in poi, la società Club Tirrenico, titolare dell'ecomostro, dovrà avviare le procedure per le demolizioni che dovranno avvenire con materiale esplosivo. Questi sono solo due delle opere su cui sarà richiamata l'attenzione del pubblico, che sarà presente all'Assemblea indetta da Sapri Democratica per mercoledì prossimo alle 18.30 nell'Aula Consigliare del Comune per discutere proprio delle opere pubbliche. Durante l'incontro il sindaco del medico e l'assessore Arramo Ricciardi si soffermeranno anche sugli altri progetti al palo, fino ad arrivare al recente finanziamento ottenuto per la costruzione della nuova scuola per l'infanzia e la primaria di via Kennedy.